Credete che ne uscirete fuori da questa battaglia? Non lo so. Mi riferisco alle forze che dalla Calabria stanno ponendo questo problema. Siccome in effetti il problema non è scura, no scura, perché scura ci mette di aggravante che non è una persona stabile psicologica. Questa è la mia valutazione, la dico è... No, no, vabbè, non è la sola, quindi è in compagnia. È un'intervista esclusiva che andrà in onda questa sera a Pubblica Piazza con Enza Bruno Bossio del PD parleremo di sanità LSU, reddito di inclusione. Vi aspetto questa sera alle 23 a Pubblica Piazza.